Aperta la nuova sede della Scuola della Musica di Terra Nuova Bracciolini, si trova in Viale Europa 50 a due passi dal centro e questi nuovi locali danno la possibilità di implementare nuove attività della Scuola di Musica che ad oggi conta oltre 70 iscritti. Adesso le classi di strumenti sono 9, a dipartimento si va dalla classica al pop, al rock e visto che mi interessava particolarmente anche la musica contemporanea che comprende anche la musicoterapia, che per quanto si possa pensare sia dal termine terapeutico è in realtà pratica musicale a tutti gli effetti perché lavora tantissimo sugli effetti e le emozioni. In più questi dipartimenti si misceleranno tra loro attraverso gratuitamente per tutti gli iscritti lezioni mensile per ogni dipartimento che si integreranno per arrivare sempre a quell'obiettivo di esperienza sociale della Scuola di Poggio che negli ultimi tre anni il percorso è sempre stato quello, in concordanza proprio con l'amministrazione che ci siamo trovati d'accordo su quest'idea per portare sempre più aggregazione poi in quella che è anche l'idea della dirigenza poi della Scuola del Concessionario che è la Fida Armonica che per 200 anni ha costruito la musica come esperienza sociale. La Scuola di Musica Poggio Bracciolini è legata al Comune con un contratto stipulato attraverso bando pubblico. I locali sono in affitto e l'ente ogni anno eroga un contributo per far proseguire l'attività. Qui ci saranno la sede di tutti i vari corsi, da corsi di strumenti individuali, corsi collettivi, percorsi professionali, tutte le opportunità che da sempre la Scuola Comunale offre ai ragazzi e alle ragazze di Terranua, Bracciolini e oltre.